Una riconferma, Daniele Rossi, sicuramente l'anno che ci lasciamo alle spalle non ti ha consentito di dare il meglio e lo farai sicuramente nel prossimo. Speriamo, sì sì, innanzitutto la voglia di ripartire perché è un anno a mezzo l'anno scorso e dal punto di vista sia di squadra che anche personale di fare meglio dell'anno passato perché penso e spero daremo tutto per fare meglio e per arrivare a risultati che spero ci spettino sul campo naturalmente. Anche con questo ragazzo c'è una bella riconferma e la voglia di fare bene c'è tutta. Daniele è l'unico riconfermato di quelli che non sono di Arezzo della stagione scorsa Siamo convinti che Daniele l'anno scorso ha fatto un passo importantissimo, ha lasciato la società, ha giocato per tanti anni, è venuto a giocare ad Arezzo quindi non è facile per un giocatore entrare subito nel contesto e è proprio per questo che siamo convinti che adesso che ha conosciuto tutto e è uno di noi siamo convinti che Daniele farà molto meglio perché lui è veramente un gran giocatore. Una riconferma è un nuovo arrivo, l'Ammen Scuola Basket Arezzo cresce, resiste, dobbiamo dire perché dopo un anno e mezzo di pandemia bisogna usare anche questo verbo come si guarda al futuro? Penso che adesso guardiamo a un buon futuro, l'anno scorso abbiamo fatto un buon campionato alla fine anche se in emergenza quest'anno abbiamo dovuto ricostruire una squadra, abbiamo puntato su una riconferma che è Daniele Rossi che quest'anno penso darà molto di più dell'anno scorso, l'anno scorso è stato particolare come siamo detti, abbiamo l'inserimento di Brandini abbiamo l'inserimento di un ragazzo lungo, quindi la squadra adesso penso sia abbastanza competitiva quindi siamo abbastanza positivi per quest'anno che viene.